Stracittadina domani è la Vincenzo Palestina all'ambito della terza giornata di ritorno del torneo di promozione. In programma a Tratico Gela, Macchietella Gela. Un derby molto atteso ed il cui risultato sarà importante in merito agli opposti obiettivi da raggiungere da parte dei due club. La gara avrà inizio alle 15. Gioca in casa la formazione gelolossa del tecnico Peppe Misiti. Azzardare un pronostico trattandosi di un derby stracittadino non è mai facile. Da un lato c'è l'ambizioso Tratico Gela che punta al salto di categoria in eccellenza ed in serie utile che vuole tre punti contro i cugini biancorossi per proseguire la rincorsa alle prime due piazze della classifica occupate dalla Capolistanissa e dalla vice Licata. Dall'altro lato un Macchietella Gela che vuole allontanarsi in fretta dalle zone calde della gradatoria generale e che intende allungare la striscia dei risultati positivi che vede l'undici di mister Mirko Fauciana reduce da due vittorie di fila. Tra i tanti temi interessanti di questo scontro fraticida c'è sicuramente quello che riguarda un ex di lusso come il bomber Liborio Scudera che ha fatto per tanti anni le fortune del Macchietella Gela e che domani invece giocherà per dare un grosso dispiacere alla sua ex squadra visto che ora indossa la casacca giallorossa della Tratico Gela. Il derby tuttogelese di promozione sarà arbitrato dalla signora Riccardo Leotta di Acireale che per l'occasione verrà coadiuvato dai guardalini e Matteo Cardona e Michele Raspanti, entrambi di Catania.